Venezia, storia e curiosità, mille iscritti. Nuovo video un po' speciale, per celebrare i mille iscritti è quindi un grande traguardo. Dopo tre anni, più di 60 video. Un ringraziamento a tutti quelli che mi seguono. Ora, per guadagnarci qualcosa, dovrò fare 4.000 ore di visualizzazioni e ad oggi sono solo a metà, ma se riesco a fare un video a settimana, in meno di un anno dovrei arrivarci. Seguono tutte le presentazioni dei vari video, se ne siete perso qualcuno. Buona visione. Grazie a tutti. 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 Vi ricordo che sulla descrizione del video ci sono dei link di Amazon di alcuni libri su Venezia. Se entrerete per quei link per i vostri acquisti, non necessariamente per i libri, potrete aiutare il canale senza spendere nulla in più. Vi ringrazio. Escrivete. Escrivete. iscriviti 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 iscriviti